Come tutti sappiamo, il collagene è molto di moda ed è diventato una parte importante di quella che è la routine quotidiana per la cura del viso. Sapevi che il collagene è una delle proteine strutturali più importanti del corpo umano e la proteina più abbondante con una proporzione di oltre il 30%? Il collagene, in effetti, è un componente organico essenziale del tessuto connettivo e della pelle e insieme alle ceramidi e all'acido ialuronico forma, per così dire, la base della pelle. La produzione di collagene nel corpo inizia a diminuire a partire già dai 25 anni circa e addirittura a partire dai 40 anni perdiamo anche fino all'1% di collagene all'anno. Tutti conosciamo le conseguenze, la pelle è più secca, i capelli diventano più sottili, si avranno più rughe e le unghie diventano più fragili. Poiché sempre più persone ricorrono al collagene, abbiamo cercato un modo per sfruttarne al massimo ogni goccia. Il risultato è Forever Marine Collagen, che ti fornisce 3000 mg di collagene di pesce di altissima qualità nella migliore biodisponibilità e una miscela perfettamente bilanciata di antiossidanti essenziali, minerali e vitamine. Con Forever Marine Collagen, al gusto di bacche, puoi assumere la tua fonte di collagene direttamente dalla bustina, sia pura che mescolata alla tua bevanda preferita. Non c'è davvero un modo più semplice per stimolare l'idratazione della tua pelle e mantenendo in questo modo una bella carnagione soda? Oltre al collagene di pesce, a questa formula, abbiamo aggiunto l'estratto di pepe nero che è un potente antiossidante, così come gli estratti di bacche di goji e tè verde che proteggono la pelle dai radicali liberi. Forever Marine Collagen contiene anche zinco e biotina, oltre alla vitamina A e C che aiutano a mantenere bella la pelle, i capelli e le unghie. Questa combinazione è veramente unica sul mercato e dopo soli 30 giorni circa non solo sentirai la differenza, ma la potrai anche vedere. Se desideri includere il collagene nella tua routine quotidiana per il viso, non limitarti quindi a prendere il primo prodotto che trovi sullo scaffale della drogheria. Prova invece Forever Marine Collagen, che contiene la formula più efficiente di collagene con la massima biodisponibilità. Grazie per la visione!